Vinci Slao e qui è Tuccio di Around the Game, siamo alla Rocca terza edizione e qui siamo ora con invece i miti di misti... misti... siamo qui invece con... mi piace fare questo momento che sbaglio tutti i nomi i miti di misteria, fantastico, bene, gioco di ruolo, allora il tuo nome è? Marco Anchise Bettoni ok, a cosa dobbiamo il tuo secondo nome? A mio nonno peccato che Girelli da Guerra ha deciso di non esserci qui oggi, questo mi ricorda che è chiuso in un bagno salutiamo l'uomo di Girelli da Guerra veniamo a noi, la capacità delle prove di capacità contrapposte alle prove contrapposte, in che senso? nel senso che nel gioco ci sono due tipi di prove, le prove di capacità appunto sono delle prove in cui il personaggio si cimenta da solo con le proprie capacità in eventi contro il mondo che gli dice il master invece le prove contrapposte sono delle prove in cui il giocatore si scontra con le capacità o di un altro avversario o addirittura di un altro giocatore in alcune circostanze sistema di gioco, il tutto in una frase? sinteticità e capacità di variare molte aspetti, tutte le ambientazioni variabilità, versatilità e divertimento voilà, prima o poi la vita mette tutti alla prova raccontaci la tua esperienza usando però solo avverbi solo avverbi sinteticamente sta molto difficile riuscire a utilizzare solo avverbi in una frase senza usare verbi o altro perfetto, perfetto noi comunque sapevamo che ti avremmo messo a dura prova probabilmente questa sarebbe una prova di capacità oppure è una prova contrapposta contro di me direi buona la seconda direi buona la seconda perfetto perfetto, no però comunque sia io io sono contento di aver vinto questa prova contrapposta quindi fantastico noi abbiamo letto nel tuo manuale la verità è solamente una quindi ti chiediamo di dirla al nostro pubblico la verità è solamente una ed è che ogni giocatore e ogni creatore di storie può disporre la sua verità nel mondo di gioco voilà e concludiamo con questa domanda che ci tenevamo veramente tanto qual è il più misterioso mistero di misteria? quello che ancora non è stato scritto vi lasceremo con questo quesito misterioso e vi salutiamo per il prossimo video alla Rocca la prossima intervista all'autore è stato veramente un piacere grazie mille per l'intervista e a presto